Il presidente Macron è stato il primo incontro bilaterale a Roma dopo un leader europeo dopo la formazione del nuovo governo. Gli storici legati tra l'Italia e la Francia, i loro comuni valori sono alla base del progetto europeo. Ho sempre ritenuto che anche l'emergere 2 milioni a volte non coincidenti debba venire sempre nel quadro di un dialogo fondato su rispetto e soprattutto orientato alle soluzioni come si deve a due paesi che sono fondatori del mondo europeo. Grazie. Grazie. Grazie.